Allora proviamo a fare una sintesi di quello che abbiamo detto finora, diciamo dell'inizio di questa cultura greca. Siamo passati da una cultura pre-greca a una cultura greca, abbiamo visto che la ceramica è il punto nodale perché all'inizio di questa cultura, soprattutto nella fase geometrica, proto-geometrica, nel Medioevo ellenico non esistono più le grandi arti, quindi non c'è più la scultura a tutto tondo, non c'è più la pittura murale ma la ceramica si conserva. Abbiamo visto come questa ceramica ha queste caratteristiche forti geometrizzanti nella prima fase e abbiamo visto poi come nel passaggio dal Medioevo ellenico all'arcaismo ci troviamo di fronte a un recupero della figura umana. Abbiamo parlato dei due poli di influenza fondamentali Corinto da un lato, Atene dall'altro e quindi di ceramica proto-corinzia e proto-attica che hanno caratteristiche leggermente diverse. La ceramica proto-corinzia tendenzialmente cerca un contatto con il mondo orientale, quindi tende ad essere orientalizzante e quindi si avvale di figure mostruose, di figure di animali selvaggi, di figure polimorfe e soprattutto cerca una decorazione cromatica piuttosto forte e quindi si cercano degli inserti di rosso, di ocra, su questo fondo chiaro, su un biscotto molto chiaro, quasi bianco. Questa è proprio una caratteristica della ceramica corinzia e dobbiamo anche notare che questo dimostra la grande perizia dei ceramisti corinzi perché ogni colore ovviamente richiede una fase di cottura diversa e noi abbiamo detto che la ceramica è piuttosto complessa da lavorare e da cuocere perché molto spesso appunto si rompe nella fase di cottura. La ceramica proto-attica e attica invece è la ceramica cosiddetta figure nere. Il vaso viene completamente ricoperto, diciamo così, di una vernicetta nera, le figure vengono ricavate attraverso questa vernicetta nera, il fondo viene lasciato, appunto quello naturale, il biscotto, che è un biscotto un po' più rossastro. Dopodiché attraverso un bulino, quando l'immagine, quando il vaso è cotto e l'immagine è fissata, si incidono ai dettagli, come vedete in questo celebre vaso di Exekias dove si trova Achille e Atene, la figura di Achille e la figura di Atene che giocano a dadi. Vedete tutte le decorazioni, per esempio dei manti, dei mantelli di questi due eroi, che vengono proprio ricavate attraverso il bulino, cioè io semplicemente gratto via il colore nero attraverso questa specie di piccolo scalpellino, piccola punta, e quindi disegno come se disegnassi con un'incisione su questo fondo nero. Abbiamo detto poi fondamentalmente che il passaggio più importante è quello che avviene tra IV e V secolo e sarà il passaggio dalla ceramica a figure nere, che abbiamo appena descritto, alla ceramica a figure rosse. Scusate, queste erano le indicazioni che ci servivano per mostrare come le figure compongono diciamo delle strutture di tipo chiastico, quindi diciamo delle figure che si corrispondono quasi a specchio, una sorta di ponderazione e molto importante anche il fatto che le figure diciamo in qualche modo assecondano la forma del vaso. Dicevamo il passaggio della ceramica da figure nere a la ceramica a figure rosse, la ceramica a figure rosse dove le figure vengono risparmiate sul fondo, quindi diciamo il colore del corpo di questi due personaggi è dato semplicemente dal colore del vaso, da questo rossastro del vaso. Questo consente di fare delle figure più dinamiche, però diciamo ci vuole una maestria ancora superiore perché quello che viene risparmiato sul vaso deve essere immediatamente corretto, cioè non ci possono essere ritocchi dopo la cottura, per cui diciamo ci vuole una capacità di comprensione, di realizzazione della figura che già deve essere nella mente dell'artista già nel momento in cui stende la vernice prima della cottura, mentre nell'altro caso io potevo comunque rifinire attraverso appunto l'uso del bulino. C'è una libertà compositiva superiore perché nella ceramica a figure nere abbiamo visto praticamente il vaso è completamente nero e si lascia questa finestra diciamo così rossa sulla quale si stagliano le figure, invece in questo caso le figure rosse possono essere amministrate diciamo su tutto l'andamento del vaso. Da questo momento in poi questa ceramica farà passi da gigante, nel senso che queste figure come abbiamo già visto nell'ultima lezione non hanno più l'andamento tipico della cultura per esempio egizia ma anche minoica e micenea, cioè questi corpi visti in visione simultanea con il torso visto frontalmente e le braccia viste di profilo. L'unico diciamo elemento di visione simultanea che rimane è quello dell'occhio che vedete continua ad avere questa caratteristica di essere posto frontalmente rispetto alla testa che è vista di profilo. Gli artisti da questo momento in poi, abbiamo già visto in precedenza vasi che erano stati firmati dagli artisti e da questo momento in poi gli artisti tendono a firmarsi come a porre un loro marchio di fabbrica per opere che devono essere vendute e quindi acquistano un valore molto importante perché sono considerate appunto non oggetti diciamo così di artigianato ma vere e proprie opere d'arte. Abbiamo anche detto che tante di queste opere d'arte non sono state ritrovate in Grecia bensì in Italia e soprattutto nelle tombe etrusche quindi c'era proprio un commercio fra i greci e quelli che i greci definivano i tirreni, i tirrenoi cioè gli etruschi che cercavano di acquistare queste opere così ricche, così importanti per farne il corredo funebre dei loro cari e quindi le abbiamo ritrovate appunto nelle tombe etrusche che ha chiusi a Veio in tante località della Tuscia dell'Etrudia. Gli artisti che realizzano queste opere quindi hanno un nome e hanno, ognuno di questi artisti contribuisce all'avanzamento diciamo così della pittura. Altra cosa che abbiamo detto e che dobbiamo ricordare è che noi non possediamo più praticamente niente di quello che è la pittura murale, la pittura da cavalletto cioè la pittura su tavola dei greci. Quindi tendiamo a considerare l'arte greca come un'arte fatta di ceramica e di scultura. In realtà la pittura greca era molto sviluppata, non ci è rimasto niente perché il supporto è evidentemente molto fragile rispetto sia alla ceramica che alla scultura. Ma la pittura su ceramica ci può dare comunque un'idea dell'evoluzione della pittura su parete. Sarà una pittura comunque sempre più limitata, più rigida, intanto non ha la possibilità dell'uso del colore perché secondariamente appunto le figure sono delle vere e proprie silhouette, quindi tendenzialmente più rigide. Però ci danno quantomeno un'idea dello sviluppo, diciamo, progressivo delle arti anche da un punto di vista pittorico. Il primo artista che vi mostro da questo punto di vista è Epitteto. Siamo appunto nella ceramica a figure rosse, quindi siamo in una fase abbastanza avanzata. Interessante di Epitteto, questo è il piatto di una Chilix. La Chilix, se vi ricordate, era quella sorta di vassoio col piede, fatto più o meno come le nostre fruttiere, veniva decorato l'interno del piatto. L'interno del piatto mostra questa sorta di satiro ubriaco. Si capisce che ubriaco da quest'andamento un po' molle, il corpo non è un corpo atletico evidentemente, tiene in mano un cratere che gli è servito evidentemente per preparare la bevanda, per preparare il vino e per bere questo vino e poi tiene questo velario sulla spalla che serve per bilanciare la figura. Figura che oltre a essere perfettamente bilanciata e a mostrare un corpo che ci dovrebbe far sorridere, perché è una scena quasi comica come quella che abbiamo visto dei pigmei e delle gru nella lezione precedente. In questo caso abbiamo una persona che non corrisponde agli ideali estetici greci, non è un adolescente muscoloso, non è un atleta, non è un guerriero, è semplicemente una persona di mezza età con un fisico anche abbastanza appannato, un corpo che però asseconda perfettamente l'andamento circolare della Chilix. Quindi questa tendenza delle figure a riempire gli spazi e ad adattarsi agli stessi, lo vedete per esempio nei piedi. Una forma di avanzamento della libertà creativa di questi artisti che riescono a intervenire nello spazio, a creare le loro figure assecondando lo spazio di cui dispongono, quindi una pittura molto moderna rispetto a quello che abbiamo visto finora e a tutta la pittura pregreca, se non fosse per l'occhio che rimane, come abbiamo già detto, come abbiamo visto molte volte, un occhio posto frontalmente, come se questa figura avesse appunto l'occhio visto di fronte e il resto del volto visto di profilo. Questa è una tendenza, quasi una forma stilistica, molto dura a morire, cioè una cosa che continuerà a farsi ancora per molto tempo, come se fosse diventato un uso comune. La figura è molto libera, molto spigliata, molto sciolta, anche nella capacità di rendere il senso del movimento, ma l'occhio rimane comunque un occhio, diciamo, pregreco da un certo punto di vista, cioè un atteggiamento simbolico, un atteggiamento astratto tipico dell'arte precedente all'arte greca. Il secondo artista che vi mostro è Eufronio, in questo caso abbiamo un cratere, come vedete, e nel cratere invece si rappresenta l'ideale della bellezza greca, cioè degli adolescenti atletici che si stanno preparando per i giochi. Vedete che uno si sta mettendo dei gambali, gli altri hanno l'oplon e il giavellotto, quindi stanno per lanciare il giavellotto. Ma la cosa interessante è che queste figure sono posizionate in tante pose diverse, perché è come se Eufronio cercasse di regolare il corpo umano secondo posizioni diverse per mostrare la sua capacità di occupare lo spazio in tutti i modi possibili, quindi figure in piedi, distanti, inginocchiate, accosciate, sdraiate, qualsiasi modalità è buona per sperimentare la propria capacità di realizzazione di queste figure eroiche. Anche qui noterete l'occhio resta un occhio frontale, quindi ancora attardato. L'ultima figura che vi mostro è quella più interessante di un artista che si chiama Sosia e qui troviamo tanti spunti di riflessione. Intanto una fortissima capacità di realizzazione del sentimento, del moto umano. Questa figura rappresenta Achille e Patroclo, c'è uno che sta affasciando l'altro da una ferita e vedete che il volto si gira, si piega, come succede a noi, no? Quando sentiamo dolore qualcuno ci pulisce una ferita, ci medica o ci fa un'iniezione, ci viene da volgere la testa dalla parte opposta. Questo è uno spaccato di umanità, di naturalismo assolutamente eccezionale, così come la capacità di far rientrare queste figure in questo spazio circolare. Vedete che la schiena, per esempio, di uno dei due personaggi corrisponde perfettamente alla curva al bordo di questa Achille X, perché anche in questo caso siamo evidentemente sul piatto, all'interno di un piatto di un Achille X, ma vedete, per esempio, soprattutto i piedi dell'altro personaggio, uno scorciato perfettamente, visto frontalmente, e l'altro che si appoggia al bordo della Achille X come se la Achille X fosse un ambiente, una stanza, qualcosa di tridimensionale, qualcosa di reale. Quindi una figura che è piatta, perché per definizione una figura realizzata con soli due colori non può che essere piatta, ma che ha una sua tridimensionalità grazie alla qualità del disegno e all'impostazione dei piedi che coprono completamente tutto lo spazio. Ultimo elemento, ci sarebbero tanti elementi da sottolineare, la delicatezza del tratto, l'attenzione per i dettagli. Guardate, per esempio, la definizione maniacale delle scaglie di queste armature, di questa sorta di cotta di maglia, le pieghe dei gonnellini. C'è una serie di indicazioni di un naturalismo, di una freschezza, di una delicatezza assolutamente inediti fino a questo momento. Ma la cosa forse più interessante è che finalmente non abbiamo più un occhio frontale. Anche in questo momento, Sosia riesce a rappresentare un occhio visto di profilo. Vedete, cioè l'occhio non è più frontale perché la mandorla dell'occhio non è chiusa. Quindi l'occhio è visto di profilo. Per la prima volta ci si libera anche dell'ultimo stilema dell'arte pre-greca e si comincia a realizzare delle persone in chiave assolutamente naturalistica. Queste sono proprio le caratteristiche fondanti dell'arte greca matura. Vedremo la scultura arcaica che, esattamente come la pittura, come la ceramografia, farà degli sforzi per superare la rigidità, il sorriso arcaico, questa modalità di scultura frontale, queste figure estanti col finto passo. Cioè c'è tutto un tentativo di raggiungere una naturalezza della figura che porterà all'arte classica nella quale, abbiamo detto, si esalterà la mimesis, cioè la ricerca di una naturalezza, di una bellezza del corpo umano, del simbolo, diciamo, della bellezza del corpo umano, che è il corpo umano maschile di un adolescente atleta, quindi un corpo atletico dalla muscolatura ben sviluppata. E come si fa? Si fa scegliendo dalla natura le parti migliori. E questa si chiama, appunto, idealizzazione. Questa è proprio una delle caratteristiche tipiche dell'arte greca, insieme alla ponderazione, all'equilibrio, al chiasmo, cioè alla ricerca di figure che siano completamente, perfettamente equilibrate, che non stonino in nessuna delle loro parti all'interno dello spazio. Figure che mostreranno anche una loro vitalità, in questo caso vedete il gesto della testa che si ritrae, ma che non mostreranno mai il dolore, il pathos profondo. L'arte greca ha, per sua definizione, un tono molto cauto. L'arte greca è come se fosse sussurrata, non c'è mai la tendenza a rappresentare la violenza, il dolore, la forza. Tutto ciò che può deformare la bellezza classica, per l'appunto dei volti o dei corpi, viene in qualche modo abbandonato. Ecco, queste sono le caratteristiche che si raggiungono nel passaggio, appunto, tra l'arte arcaica e quella che invece definiamo arte classica. Nelle prossime lezioni ci occuperemo della scultura arcaica, per vedere quello che abbiamo visto nella ceramica, anche in un'arte tridimensionale, nelle arti plastiche.